La branca medica della podologia e l'importanza della cura dei piedi. Ascoltiamo in proposito il podologo Gabriele Tedesco. La podologia è quella branca della medicina che si occupa della cura delle malformazioni anatomiche e patologiche del piede. Il podologo nasce appunto come professionista dalla laurea in podologia, proprio come professionista che si occupa a 360 gradi della cura del piede per tutte le patologie. Quindi diciamo dalle patologie più diffuse, diciamo quelle problematiche posturali che comportano la formazione delle callosità. Quindi la sofferenza, la callosità ci sta proprio a indicare una sofferenza del piede, una problematica posturale che molto spesso è messa di lato da parte nostra perché comunque non ci interessa prenderci cura del piede o comunque lo prendiamo sotto gamba, quando in realtà il piede è fondamentale, è un organo di senso e di moto antigravitario per eccellenza proprio del nostro corpo poiché ci permette di stare alla base del sistema gravitario, antigravitario posturale e ci permette la stazione retta e di spostarci nello spazio. Bisogna prendersi cura dei piedi proprio perché il piede ci sostiene per tutta la vita e quindi abbiamo bisogno di prenderci cura dei piedi da uno specialista proprio che ha studiato nell'ambito medico che è appunto preparato e ha studiato proprio per questo.